Ciao a tutti, sabato ho praticamente effettuato un ordine da Passioni Unghie e ieri ho ricevuto tutti i prodotti adesso mi faccio vedere sperando che i riflessi mi aiutino che cosa ho ricevuto allora vabbè questo qui è il modulo di reso e di sostituzione che inviano nel caso in cui ci dovessero essere appunto errori nella spedizione poi qui ci sono tutti i prodotti che ho praticamente ordinato allora queste sono decorazioni natalizie ho già iniziato a fare un po' di scorta si applicano con questo prodotto qui il gel foil che è una sorta di semi permanente a colla praticamente questo è uno dei prodotti che ho ordinato questo qui è invece il remover HD ovvero il solvente che si utilizza per rimuovere il semi permanente questo è il pack dopo lo proverò perché a breve farò un semi permanente vi farò ovviamente l'anteprima e poi il dopo questi sono i colori questo è la luce non aiuta purtroppo è più che altro un verde questi sono i colori con il magnete o anche le techezzai questo qui è un colore è un bordeaux brillantinato questo è un altro get size sempre sulle tonalità del rosso in realtà cerco di prendere sempre prodotti che come è ovvio che sia come è giusto che sia che si possa abbinare con altri colori che io ho allora questo è un altro sempre cat size questo è un altro colore questo dalla fotocamera sembra viola ma in realtà è più sulle tonalità del grigio questo è un rosso rosa ed è sp 66 poi ovviamente cercherò di di farveli vedere applicati sulle unghie qui ci sono allora apriamo questo qui c'è quest'altro colore qui che si chiama jador è molto bello è un bianco perlato però è comunque un colore neutro questo qui è la base allora io ho utilizzato sempre la base di mesauda il problema è che non mi sono trovata molto molto bene quindi sto cercando di testare altri prodotti al momento ho deciso di prendere questo che proverò oggi stesso vediamo sulla cliente la tenuta qual è e questo invece è un altro colore che dovrò aprire è il nome ah è la decorazione questo qui praticamente ci sono dei microglit colorati diciamo è abbinabile a qualsiasi tipo di colore infatti ci sono eventualmente tutti 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 i colori ovvero i codici dei microglitter che sono stati utilizzati per formare questo semi permanente qui ci sono le dual form dove è scritto che si utilizzano per lo più con l'acrilico ho erroneamente ordinato due confezioni e questo invece è il regalo che mi hanno inviato per chi utilizza passione e unghie come agenda sa che ogni ordine viene inviato appunto un regalo e questo è il regalo che hanno inviato a me appunto essendo nel periodo natalizio hanno deciso di iniziare ad inviare i glitter inerenti al periodo bene e questo è questa è una parte dei prodotti non che questi sono gli ultimi che ho preso e vi farò una panoramica degli altri che ho questo qui quasi dimenticavo è un gel costruttore monofasico che utilizzo per effettuare ricostruzione o rinforzo dell'unghia colata gel bene spero che vi sia piaciuto un saluto a tutti grazie a tutti